L'allenamento a porte chiuse è che abbiamo bisogno di stare un po' tranquilli, io purtroppo ho un caratteraggio, perché urlare, fare, non siamo qui per lavorare, non siamo qui a lavorare, però a volte c'è qualcuno che urla un po' troppo, non è euforia, io li conosco tutti uno per uno, quelli che ci danno euforia, ci stanno vicini, io conosco tutti. Torna zito? Torna zito forse, perché forse, a disposizione, a disposizione, a sinistra, o un'arma almeno, o un'arma almeno, che ne so io, scusa noi nell'ultima due partite senza zito tutti si dicevano non abbiamo l'alternativa, non abbiamo niente, si è fatto 5 gol, meno male che sapevano l'alternativa. Lui non mi sembrava dire anche lui, ho capito, bischero, l'ho detto apposta, siamo monchi, siamo qui, però vedi com'è il calcio, e sono io il primo, l'ho fatto per me questo discorso, ho visto com'è il calcio, basta un niente, il calcio non si sa mai dove vai a parare, non si sa mai, al di là del valore di Antonio, però il calcio è fatto per essere smentito, io prima leggevo il giornale, ho letto un titolo, ora aspetto domenica per vedere com'è il calcio, è sempre così, è come quello quando diceva un difensore, con me non ho mai fatto gol tizio, andavi a leggere domenica, due gol gli faceva. Riguardo avreste stato? No, 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 no. Il partner ideale per Sau, perché ha giocato quasi sempre con Danica Vicious, il suo campo ha fatto benissimo, però a Vicenza, anche quando è uscito, che ha giocato più vicino a Mbagovi, è sembrato funzionare allo stesso modo. Sì, ma anche perché i movimenti di lui sono soliti, sono gli altri che si devono adattare, si devono adattare, sì. Poi non sappiamo come si muove lui, gli altri lo fanno di conseguenza, non è che... Quindi non c'è un partner ideale all'interno della rivestandia di Sau? Diciamo che per gran parte del campionato è stato Danica Vicious che ha fatto un lavoro sport, ha lavorato tanto, si è dato da fare, forse ne risentivano anche un po' la prestazione a livello personale, però è stato sempre utilissimo alla squadra, questo bisogna riconoscere. Vista che Bacopo è stato ritrovato? Dove era? Ho stato ritrovato, Bacopo ora sta giocando come si deve. Io penso che le ultime due partite di Bacopo l'abbia fatta, quello che mi ha fatto piacere è che ha lottato, cosa che per lui in alcuni momenti è difficile fare, però ti sta a dimostrare che se aveva ragione noi a rompergli le scatole, perché è un ragazzo che può fare anche questo. Bacopo sarà un altro che arriverà a fare qualcosa di importante nel campo, è solo questione di tempo, di maturazione, c'è tutto, basta vederlo come cammina per capire che arriverà a fare qualcosa di importante nel campo. Poi dipende dai tempi di maturazione che è un bel soggettino. Ogni tanto serve una svegliata? Sì, mi serve, come si dice, una volta lo tratti bene, una volta dopo devi stare attento a danni una trambata perché se no poi si rilassa, però è un ragazzo che secondo me ha delle qualità come ce ne sono anche altri qui che in questo momento vi si stanno cercando ad adeguare, che può essere Beretta, lo stesso Falcinelli, sono tutti ragazzi che hanno delle qualità, che sono arrivati in un contesto diverso da dove erano abituati e gli ci ha voluto tempo, tempo e tanto sacrificio è che quando arrivi qui fanno fatica a trovare i ritmi che hanno gli altri e allora gli ci vuole un pochino di tempo, però hanno delle qualità, che hai presento se un ragazzo è il 92, 91. Quali sono le situazioni di Colombia e Scogliamiglio? Colombia e Scogliamiglio sono stati convocati, questo non vuol dire che giocano, Colombia è in panchina di sicuro, Scogliamiglio nemmeno, tanto per essere chiaro, devono lavorare, sono appena ritornati in gruppo, devono lavorare. Cioè si dovrebbero riconquistare il posto? No, no, quello no, qui il posto non c'è nessuno, nemmeno io se mi caccio. Qui siamo un settimana, io credo che un allenatore debba sempre scegliere in funzione della squadra migliore, loro si mettono lì, si allenano, non si può dire uno come Gennaro è stato fermo tre mesi, adesso torna il gioco, a parte che ancora si deve allenare per una seduta intera di un giorno con la squadra. Poi ci sono altri fattori, c'è della gente che entra al suo posto e sta facendo benissimo, bisogna essere intelligenti, allenarsi bene e farsi trovare pronti quando arriverà il loro momento, questo vale per Gennaro e vale anche per il signor Colombi. Questo è il tempo del Padua. Chi è che non lo teme il Padua? Chi non lo teme vuol dire che abbiamo rispetto del Padua, abbiamo molto rispetto del Padua, è una squadra che ci può battere, però può anche perdere. Noi dobbiamo cercare di vincere la partita, di fare il massimo. Detto dal canto, se mi dicessero che da Castellamare portò via un pareggio figlio, infatti? No, no, poi capace si perde, ma a noi si filma proprio in Begnano. La partita ce la vogliamo giocare, sappiamo delle difficoltà, questa è una squadra con giocatori di Serie A, però siamo a un certo punto del campionato che ci possiamo permettere anche qualcosa in più, di provare a fare qualcosa in più, rischiando al limite però. Noi dobbiamo dare il massimo domani sera, può vedere. Ultima curiosità, il Tras, cioè la giustizia sportiva ha tolto quei quattro punti che probabilmente saranno eseguiti in questo momento per pensare all'altro, forse anche prima. Visto che ci sono ancora delle inchieste in corso e probabilmente senza voler andare al merito delle varie squadre che coinvolgono anche delle formazioni che sono sopra la rivestabia in classifica, aspetta che ci sia almeno lo stesso trattamento paritario, cioè un trattamento rispetto a quello che ho avuto la rivestabia? Io sono sempre detto che non mi aspetto niente, ma io non è perché voglio fare una cosa diversa perché Braga è diverso dagli altri, io ho visto come si sono comportati con me a livello di giustizia sportiva quando ho avuto bisogno io, basta, non mi aspetto niente, ognuno di loro ha un metodo di valutazione, tutto suo. Ci sono delle regole che sono vecchie come il cucco, però non devi creare un precedente, non devi fare, non devi dire, hanno tutti le mani legate, tutti hanno un indirizzo e vanno dietro a quell'indirizzo, se ti va bene, se no non ottieni niente, te puoi dimostrare, puoi fare, ma se nella prima udienza ti hanno dato una certa linea, ti hanno considerato in una certa maniera, stai tranquillo che difficilmente ti viene tolto qualcosa, questo è quello che io ho sempre visto a livello personale, poi mi auguro che nel futuro iniziano a cambiare tante cose, gente che scommette, gente che si vende le partite, non devono più giocare a calcio, devono radiarle e basta, ma non perché io sono fuori da queste cose, io non ho mai voluto sapere niente e finché faccio questo, non vorrò mai sapere niente e dovrebbero farlo anche con i dirigenti, chiaro, chi è che vi ha ripizzicato deve smettere di stare in questo ambiente, non riciclarsi sotto un'altra forma, non devono fare più parte di questo ambiente, perché la gente che io credo che un tifoso quando viene a vedere la partita deve sapere se io me la gioco o meno, no, deve sapere che io me la gioco e basta, che poi vinco e perdono un altro discorso, ma me la gioco, diverso.